Ma non lo, non voglio, oh che palle Oddio No Che succesca? Aspetta Ma cos'è? Ma è trasparente! Che cos'era? Ma questa, ah me l'hanno chiamato River Island ma altè coso, Max si chiama, Max si chiama Alcatraz Quale dici? Alcatraz su... Blackout, si Eh io non lo so Non ci ho mai giocato Dove che andiamo? Ah buh, seguiamo quello Mi fido E se no non ne sarei così più puro Guarda Ah già ho chiuso uno Fasco No Faffanculo Sii No ma il fatto che ci siano le armi Questa è una roba Che mi fa impazzire Si ma almeno, anche se non hanno cambiato mappa Non ha fatto niente, nemmeno hanno messo qualcosa Di... di nuovo Che cazzo è? Non stai che fuori? Ma ho un pezzo di merda Dov'è? Eh sono qua sotto E finisci Lo finisci di stare a assistere Stare stando Oddio Andi là Che c'è gente C'è gente qua avanti eh Eh lo so Morto Ma tutti che c'hanno il... Oddio Oh C'è il Groza qua Io lo prendo per provare Ah io prendo il cecchino No 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 Hanno flashato 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 Ancora Ancora No no Da sopra Eh ma da che cazzo hai? Gli occhi pure di dietro O di sopra Troviasse Ma non lo... Non voglio... Oh che palle Eh se... Oddio No C'è successo? Fico guarda qua Aspetta Che vado di... Arma Guarda a questo Dove? Devo pingato Io non vedo nessuno qua Come no? No Io ho bisogno di ammo comunque eh Oh arrivano Dio Christian Non mi fa prendere... Ok Quina? Si si No no Mi faceva prendere l'arma No l'altro Ma... Che abbiamo in squadra? Ma siamo soli Vabbè amen E allora andiamo... Proviamo qua A Pinnacoli Pinnacoli Sai che... C'è stato un momento in cui avrei voluto provarlo Fortnite Sì Non ti sei perso Non ti sei perso Vabbè io vado sul tetto Ok Vabbè... 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 Eh sì... Tirato su Madonna il tundra che bello C'è uno là in fondo Non so come si pinga Lì? E' sopra? No È là... È là... Oh 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 qualcuno? Sì Da dove però? Sai che c'è qualcuno sotto eh? No via! Mi hanno fregato di Cristo Occhio occhio Sempre sotto? Sì Ah... Sì, mi hanno sparato lì Ma che cazzo è stato? Di dove? Mu tassà Dai da 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 Leti da 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 disù No determine... Ah... Menchia ma che gente Ti giuro la gente che ha coltella da dietro Vabbè da... No mi verrebbe più cosa da77 Cucinarla Viva Siamo soli stavolta No Dove? Andiamo lì Può andare là No lui è pingato No non c'è un mirino secondario Mi danno una cazzo di arma Oh un'arma Di già Sì ma in demo 2 ci sono gli spari Ma che c'è Gli fai ma si è fortissima Oddio ma che cazzo oggi No 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 Trico 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 Dove? Alla sinistra È dentro quella casa Lì ce ne sono due No no vini di qua Vieni qua No ma che cazzo Aspetta Va bene ma Hittato due volte Io sono su queste cazzo di scale Non vedo niente A terra C'è un altro Eh lo so Tu vuole restare C'è un altro Mi c'è un altro Sì mi c'è un altro Ti ho fatto? A terra tutte e due Mi manca uno Mi manca un altro No 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 Va dietro Eh ormai ormai scendi Vabbè io ormai Cos'è che è successo? Aspetta Spina L'elicottero Arrivo Oh lì c'è un nemico Gli avanti Gli avanti ci sono nemici Avanti? Sì da me Anche Da dove? C'è anche per voglia di mio Va non è che Ma cos'è? Ma è trasparente! Cos'era? Oh No è un hacker Ma perché? Hai visto? Sì ho visto Un hacker Hai visto? Ma sicuro che era un hacker Perché ci sono anche dei Dei C'è un bug Che ci sono delle persone invisibili O è un hacker O era il bug Eh sicuramente Non lo so C'è un hacker